La carriera di Elisabetta comincia presto. Da bambina interpreta alcune parti nei Caroselli Rai del 1962 e, a soli sette anni, frequenta la scuola di danza classica milanese di Luciana Novaro. Da adolescente impara a suonare la chitarra e si diletta nel cantare le canzoni dei Beatles. Dopo il liceo si iscrive alla scuola di recitazione accademica filodrammatica di Milano. Nel 1974 inizia la sua carriera teatrale con lo spirito del bosco e il giorno in cui sequestrarono il Papa, dove recita da protagonista insieme a Ernesto Calindri e Lia Zoppelli al Teatro Nuovo di Milano. Sempre in quella no viene chiamata dalla Rai di Milano per interpretare il ruolo di protagonista. Nell'operetta Nono Nanette, insieme a Claudio Lippi, nel 1975 interpreta i diari. Una commedia di Benedetto Bertoli al Teatro dei Filodrammatici di Milano. Ottiene un grande successo grazie alle sue doti di recitazione e di canto. Che le consente di partecipare ad altre famose trasmissioni televisive. Alle nove della sera, un programma in dieci puntate di Maurizio Costanzo e R. Dane con la partecipazione di Gianni Morandi. Macario 1 e 2. Varietà con Macario per la reggia di Vito Molinari. Venendo poi riconfermata per Macario Più. In quel periodo comincia a prestare la sua immagine ad alcuni fortunati caroselli televisivi fra. Cui quelli di Sole Bianco. Famosa la hit Susanna verso il Sole. E Invernizzi. Prosegue la sua fortunata carriera televisiva con. Ma che scherziamo. Varietà con Gianni Agus e Raffaele Pisu su testi di Marcello Marchesi trasmesso da Rai 2. Poi con Valentina Commedia musicale del sabato sera di Rai 1. Il primo settembre 1977 Elisabetta diventa mamma della sua unica figlia Nicole. Avuta da Gianni Rivera, l'anno successivo, il 1978, Elisabetta raggiunge anche la sua realizzazione lavorativa. Con il grande successo di Eidi. 45 giri che vende ben un milione e mezzo di copie. La canzone, realizzata in studio con i testi di Franco Migliacci. Musica di Christian Brune e coro delle Baba Yaga. Fu adottata come sigla italiana per l'inizio della Messa in Onda. 7 febbraio 1978. Della lunga e celebre serie televisiva. Ben 52 episodi. Legata alla storia della bambina svizzera Eidi. Uno dei primi cartoni animati giapponesi. Per la regge di Isao Takahata. Sulla televisione italiana Rai. L'anno successivo, il 1979, Elisabetta interpreta la banda dei Cinque. Sigla dell'omonimo telefilm poliziesco per ragazzi è. Nello stesso 45 giri. Tarzan Tarzan. Successivamente incide canzone logica. La cover italiana di The Logical Song dei Supertramp. Con arrangiamenti di Alberto Radius. Sigla del programma televisivo il protagonista. Cui retro del 45 giri è il brano Miele. Una delle canzoni preferite della Viviani e che canta spesso nelle sue serate. Mario Cecchigori. Noto produttore cinematografico. Nel 1981 le propone una parte nel film di successo Asso in cui interpreta Carolina. Con Adriano Celentano e Edwige Fenech. Una convincente parte di Donna brillante e comica. Nel 1982 ed Elisabetta si presenterà. Per l'unica volta. Al Festival di Sanremo col brano C'è. Scritto da Balducci. Nello stesso anno incide canzone contro. Sigla finale del programma di Rete 4 Topolino Show. E Febbre della Notte. Sigla della trasmissione radiofonica di Radio 2 quando dico che ti amo. La carriera di attrice prosegue con Mademoiselle Nitush. E' sul preesserale di Rai 1 conduttrice di Buonasera con. A fianco di Enrico Maria Salerno. Dal cinema alla telenovela Compassioni. Cento puntate in onda su Rai 1 in cui è anche interprete della sigla di testa sarà bellissima. Incisa per la RCA. Nel 1991 inizia la sua collaborazione con la Fininvest come conduttrice show girle per Rete 4. Contenere la notte. Programma lancio dei film della Rete. Buongiorno amica. Varietà della domenica con orchestre e ospiti. Prosegue la sua collaborazione con la Fininvest su Canale 5 dove partecipa a tre edizioni dello speciale simpaticissima. In cui si dimostra una perfetta show girle ballerina. Poi con il Varietà la Sai l'ultima. Condotto da Pippo Franco come testimonial dello sponsor Tenderly. E' ancora su Rete 4 con lo speciale di fine anno 4 salti nel 1992. In cui interpreta un duetto inciso con Giorgio Mastrota. Sempre su Rete 4 telesveglia. Programma del mattino di news e curiosità. Nel 1993. Conduce lei stessa e domenica. Sempre su Rete 4. Per Canale 5 partecipa allo show e viva l'allegria. Su Canale 5. Ha partecipato a due edizioni come ospite nel famoso programma contenitore Domenicale Buona. Domenica. Su Telemonte Carlo ha proposto un videocatalogo di prodotti per la casa. In cui oltre ad essere il testimonial si presentava come conduttrice di televendite. Nel 1994 incide un CD intitolato semplicemente Canzoni. Prodotto da Oscar Morelli. In questo CD Elisabetta ha voluto interpretare un genere di canzoni differente dalle precedenti. Concedendosi anche a testi impegnati. Nell'autunno del 1996 partecipa a numerose trasmissioni Mediaset come ospite o testimonial di Prodotti pubblicitari. Mai dire gol. Buona domenica. Simpaticissima. Canzoni sotto l'albero. Nel 1997 conduce al fianco di Cino Tortorella la trasmissione Peter Pan. Dalla parte dei ragazzi sull'emittente Telenova alle 19.30. In diretta, nel 1999 e attrice di rilievo nella fiction in crociera in onda su Rete 4. Interamente girata Cuba. Nel 2000 è seconda al Festival delle sigle Makemu. In onda su Italia 1. Presentato da Paola Barale. Nel 2000 inizia una lunga collaborazione artistica con l'etichetta M.A.P. e con l'autore e arrangiatore Gerardo Tarallo. Con cui realizza sette album. Un tuffo nel mar Disney con le più belle canzoni Disney. Nel 2002 incide l'album Un Film e una canzone con brani tratti dalle più note colonne sonore. Nel 2004 realizza Le favole si possono cambiare. Nel 2008 incide Panta Ray in cui è contenuta la canzone I sogni dei bambini prima accettata e poi eliminata dal Festival di Sanremo. A Natale 2012 viene pubblicato il cofanetto con doppio c-dai magico Natale con brani classici e inediti sul Natale e canzoni Walt Disney. Nel 2013 incide l'album Favolando con 12 canzoni inedite liberamente tratte dalle più note favole di tutti i tempi. Nel 2015 Elisabetta Viviani, in veste di attrice, col cantante e compositore Dario Baldam Bembo e l'attore e scrittore Franco Romeo ha messo in scena un recital sulla vita di Papa Francesco con le musiche dello stesso Baldam Bembo e con il testo di Adriano Bonfanti e Gigi Reggi. Dal titolo il primo a chiamarsi Francesco Elisabetta Viviani è anche pittrice. Da più di dieci anni presente conduce la manifestazione musicale Bimbo Festival, nata nel 1987, che si tiene a Milano in un'unica serata, alla quale partecipano bambini che vanno da un'età compresa dai 5 ai 12 anni. Svolge una intensa attività di serate come cantante conduttrice.